Montepulciano e Hans Verner Enze, è questo il filo rosso che lega i contributi della prima serata dedicata al fondatore del Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano, scomparso alcuni mesi fa. Hans Trucks, in programma martedì 23 luglio alle 21.30, è un tributo teatrale a quattro mani che reca la firma di due illustri colleghi, Antonio Fattini e Fabio Fassoni, che per mesi hanno raccolto gli scritti autografi e documenti inediti che Enze ha lasciato nella città del nobile. Punto di partenza questo per costruire una performance che vuole approfondire gli aspetti più intimi e profondi del rapporto fra Enze e Montepulciano. Un rapporto vivo e spesso contrastato, fatto di profondo amore per l'arte e per la cultura, passioni che alla fine il maestro è riuscito a trasmettere ai poliziani, proprio attraverso il Cantiere Internazionale d'Arte. Quel mecenatismo culturale, quel senso di battaglia, quella voglia estrema di indurre delle esigenze culturali a Montepulciano e la consapevolezza che per farlo doveva combattere, combattere proprio, far capire alle persone, alle gente, alle istituzioni, al comune, agli assessori, ai sindaci quanto fosse importante che la popolazione vivesse direttamente e indirettamente un Cantiere Internazionale d'Arte. Vedendo gli ultimi cantieri, secondo lei questo messaggio a Montepulciano è arrivato? Beh sì, anche perché per essere alla 33esima edizione, se non fosse arrivato, sarebbe morto molto prima. È una città montepulciano che ha avuto certamente una ricaduta, c'è una ricaduta tangibile sul territorio di quello che è stato un progetto culturale come quello di Hens e credo che lo si possa vedere tutti i giorni.